Ebbene a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi siamo qui ragazzi con un video di Fortnite ma non è un'arena, non è un game normale Ma siamo qui con un torneo Stiamo parlando ragazzi della Cash Cup E peraltro questa volta ho giocato con un nuovissimo duo che ci siamo trovati benissimo insieme Non abbiamo mai fatto custom insieme, mai arene, mai giocati insieme Abbiamo fatto però veramente un ottimo risultato E ora andate a vedere un pochettino un montaggio delle varie partite che appunto abbiamo fatto Peraltro ragazzi volevo ricordare che questo sabato all'ora il 14 uscirà la parte 2 Della mia reazione ai vostri gameplay su Fortnite Quindi se volete farvi notare è il vostro momento giusto Dovrete appunto semplicemente caricare sul vostro canale YouTube delle clip O fare comunque un montaggio di alcune delle vostre giocate su Fortnite Che sia in creative, in torneo, in arena, dove volete Caricarle su YouTube e taggarmi nel vostro titolo del video Una volta fatto questo, il passaggio importantissimo Dovete scrivermi su Instagram che appunto avete caricato il video Mi passate il link al vostro canale e anche il vostro surname Così che almeno avrete maggiore chance di far parte del video che uscirà questo sabato Quindi sbrigatevi ragazzi a pubblicare i video Perché avete pochissimo tempo Dato ciò ragazzi mi raccomando Lasciate un like, iscrivetevi al canale Vi ricordo che mi trovate in like tutti i giorni sul mio canale viola Dalle ore 17 in poi Trovate il link in descrizione Stessa cosa per il mio profilo Instagram Seguitemi Ora ragazzi però vi auguro buona visione E andiamo al gameplay Probabile siamo contestati Dove porto anche i big che ce ne sono due qua Eh va bene Dovemo aspettare Tanto surge e non parte Quindi Sì no no Siamo tranquilli Perfetto A posto E ce la scegliamo ancora Se abbiamo la 50 possiamo anche prendere Aig Va benissimo Eh pensa alla zona Pensa alla zona Segui 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 Tanto salendo di un... Sì 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 sono attaccato Sono attaccato Sono attaccato Tapp 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 Oh 200 Certo Tipo 14 Stavissimo Stavissimo Scusa di Rampino che sono nel chill Sì 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 Tornando Occhio il muro non è fuoco Peccato Comunque non mi metterò il muro rinforzato C'è assurdo Sì ma ti ha messo il pavimento Non ti ha messo il muro Eh non si vede nulla Dov'era l'SMG che non c'è il P-Ping Aspetta Arrivano Cerchiamo di fuggersarmi uno Guarda me Fu box fu box Quanto sei? Due dietro due dietro Eh presso il bush Ok si si fatti perché vedevi i passi Sì si si li vedevamo anch'io Sì hanno il bush hanno il bush Ticato 18 Guarda me 43 mi ha crackato 16 Ok qua c'è anche un rampino 26 Io sono qua chill per il momento Tipo 18 alla concentrazione Non capisco che cosa vogliono fare sinceramente Gente da me fuori safe Sì si si dovrei riuscire Ho fatto un colpo di rampino Benissimo Box ha proprio qui edge Sì si Mi sembrava un solo eh Non voglio dire una Bianca raccato insomma Faccio il kit Qua hai un kit eh Sì dai uno si Eh aspetta che c'è uno Guarda no come dei cani Bianco 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 Non cado uno Non cado uno Vieni qui sopra Sopra sto battito Non cado Passa sulla sinistra e slide Biano biano Interrotto l'azione Riesci a finire Sì si mi tiro più a un mini Ok Frezziamo Questa è una minando Qua qua 18 non cado Non cado Buono 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 Pregnano 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 Ehi, due build, finiti. Peccato, avessi avuto i maz, ti vendevi il filtro. Però buonissimo, c'è GG. Buonissimo, 41 in due, ci sta. Eh, madonna. Allora. Senti, c'è un cosetto. Hanno andato benissimo quelli, cazzo, sai? Sì. Io arrivo male. Io arrivo male. Lo stesso drop. Io arrivo male, ogniamo a templetto? Andiamo tanti, andiamo tanti. Non siamo più tranquilli. 23, quello dietro? Sì, stavo dietro. Vanno addosso? No, 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 no. Però c'è uno corampino che... Però sì, mi fanno addosso, nulla. Ma... Arrivo. Mi stanno scopriando dietro. Ma perché stanno facendo st'erore, ma vedi? Non capisco. Perché? Un bollone. Io non capisco perché veramente giocano così, si sono messi benissimo. Sì, bene. Quelli sono i naig. Cento? Dove busciare? Sì, 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 ha fatato, ha fatato. Sì, sì, è il limite di eliminare. Inце white. Mi sa che è l'amico. Dai, 28, blu all'altro. Dai, ma comunque... Passapassapassapassai. Doveiamo uscire, dove、、 окerche. 101 cento a Laura. Noccato, 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 noccato. Buona, buona, buona. Arrivi proprio. Sono chil, sono chil. Ti aspetto, ti aspetto. Vuole chiarmi? N details. Hanno preso un cazzo questi Mamma mia Prea qui Guardano ancora dietro Ok ok questi che hanno dato Stanno ruotare volendo Ok si si ci sono Vieni vieni Fatto vieni Non prendere l'occhio Tarpo un po' Guarda tranquillo Devo ruotare ancora Sì Sì eccolo La prendiamo Buono buono bravissimo Trappo 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 No ha vissato Ok ok Metti buro Metti buro Metti buro Lascia andare Sono perfetto Sono perfettamente con te Sono perfetto qui Sono perfettamente con te guarda Ok occhio Vieni qua vieni qua Ok 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 Guarda con me Ok dietro dietro Metti un muro Metti un muro Non lo faccio di arco Non lo faccio di arco Devi scendere Devi scendere Devi scendere Sono contento Sono te Perfetto Perfetto Io farmi mist Mad mist E minio Ok Vabbè tranquillo Io sono 250 di legno Non lo faccio di arco Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Anch'io Anch'io Siamo qua Brava brava Io sono sotto Te la faccio trappare Poi Il mio L'iamo distrutto Questo Dio Perché non si capiva Nono C'è gente Non runner non picchiamo genti tanto è fulano staggersi sennò ma infatti andiamo tranquilli abbiamo proprio una campanella e bussha ripetiamoci non periamo andare sui che si sono proprio distrutti a 43 ma io ancora sincero ora sono e 55 vedo abbastanza difficile che qualcuno guardano 15 15 ma io l'ho caccavo io che direi mai dici con solo farei lago il trooper non lo so mi arriva i vari 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 o non ci si si ho sentito 32 dobbiamo andare andare ci sarebbe la che vai o l'ultimo caso adesso adesso faccio una flash Vieni, 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 vieni Ok, vieni, vieni Andiamo a fare un big, ah Vado tranquillo Tutto il ferro 1-8, 1-48 7 Vieni, vieni, vieni Metti la scala, metti la scala Vado sotto Vado sotto per forza Ti giuro, ma vuole andare anche top 2 Eh, ma guarda la safe Ci sto Buono, buono Abbiamo fatto un po' di punti, cazzo Quindi ci siamo sempre posizionati bene Comunque, sempre, sempre, sempre Nonostante con le fiftie Tutto opposte Sì, infatti, c'è, incredibile Sto pensando ancora al game di quelli là Che ci hanno pusciato là, dove sono i pad Che hanno preso il caccio, abbiamo questo doppio ranfino Ma l'acce di giro quel game lì? Lì stavo proprio vedendo a livelli estremi Sì, ma tantissimo, c'è Bene ragazzi, è arrivata alla fine di questo video Come avete visto alla fine abbiamo finito in posizione 225 esimi, quindi direi un ottimo Risultato Alla fine non siamo qualificati alla cash cap Praticamente per 15 punti Di conseguenza sono molto soddisfatta Anche perché con Axie non abbiamo mai giocato insieme Come ho detto anche nell'Inter Non abbiamo mai fatto custom Non ci conosciamo nemmeno Ci siamo beccati su Twitter Abbiamo iniziato a fare due insieme Quindi devo dire che come ci trovano È stato veramente fenomenale Quindi ragazzuoli Dalla vostra curata mi sia tutto Noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video Se non avete ancora lasciato like Fatelo adesso Bella a tutti ragazzi Alla fine Ciao 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 Ciao